On top of the world, on top of it all, trying to feel it being simple, yeah, oh, yeah, oh, I'm tired on top of the world Gentili utenti di assist sportiva, appassionati di calcio, ben trovati dal Cercat dove è appena terminata la gara di cartello della seconda categoria Sportmania Sauri finita 2-0 per gli ospiti Siamo in compagnia del mister dello Sportmania Michele Schiavone, mister, era la partita di cartello appunto di questo campionato, potevate chiuderla andando a 8 punti, avete perso, meno 2, campionato riaperto Sì, va bene, io ho già detto in settimana a Presidente che comunque secondo me anche se avessimo vinto oggi il campionato è ancora lungo perché ci sono delle partite che dobbiamo affrontare noi fuori casa, in casa, come anche loro Certo oggi comunque se avessimo vinto a 8 punti, voglio dire, era un risultato importante, un montaggio importante Purtroppo è andata così, è andata male perché non siamo riusciti comunque noi a segnare perché comunque abbiamo creato delle occasioni da gol importanti Queste sono partite che si decidono in questo modo, calcio di punizione, di angerame al secondo tempo e ha fatto gol e ormai mancavano già 10 minuti alla fine Poi chiaramente in contropiede noi ci siamo messi a 3 perché ho messo ancora un'altra attaccante in più a De Fazio A questo punto volevo dire che non dovevo perdere più niente, perdevo 1 a 0, tanto perdere 1, tanto perdere 2, tanto perdere 3 Mi sono sbrangiato in avanti e chiaramente loro con il contropiede che sono micidiali ci hanno fatto il secondo gol Un piccolo rammarico c'è soltanto perché purtroppo noi abbiamo giocato giovedì in settimana a Biccari, una partita importante Una piccola polemica da parte mia perché secondo me una federazione non può mettere un recupero infrasettimanale prima di un big match così importante come il corso di oggi E così è stato perché abbiamo giocato a Biccari sotto pure un diluvio, abbiamo perso uomini importanti come un grandissimo infortunio di Jovino Avevamo già ammonito Tarricone, si è fatto male gravemente anche Adriano Guglielmo, infatti oggi ha giocato con una facciatura, un pentaggio al Polpaccio Voglio dire non è che se non avessimo giocato lì, oggi avremmo vinto la partita, cioè attenzione Però sai, domenica, giovedì abbiamo fatto gol alla fine, abbiamo dovuto springere sull'acceleratore fino all'ultimo minuto E abbiamo lasciato un bel po' di energie, oggi si vedeva un po' che la squadra andava un po' con freno tirato Comunque voglio dire alla fine della storia hanno vinto loro e hanno vinto meritatamente, comunque una squadra si sapeva che questa era una squadra forte Abbiamo perso l'andata 2-1 e abbiamo perso oggi Giocare io a volte con Nicola Borrelli, scherzo anche, non vingo mai contro di lui Che ne so, ci arriverà il giorno che vincerò Però voglio dire, quando poi perdi contro un avversario così forte, quotato, rimane l'amarezza in bocca Perché avremmo potuto trovare gol noi prima perché abbiamo provato in diverse occasioni Hanno fatto gol loro e chi segnava, secondo me, oggi vingeva la partita Eccolo, ha già ricordato lì quanto sono state decisive le assenze di Jovino a centrocampo, qualità e quantità E soprattutto anche di Cascela, infortunatosi durante la gara Cascela si è infortunato quando siamo andati a giocare a Castruccio dei Sauri Si è infortunato con loro a primo tempo, anche abbastanza seriamente, ed è dovuto uscire E io il centrocampo l'ho perso perché comunque tenevo anche Tarricone squalificato Oggi avevo l'unico centrocampista che faceva quantità, che era praticamente Roberto Cascela Perché ripeto, con Tarricone squalificato, Jovino e infortuno gravemente Si è fatto male pure Roberto Cascela E diciamo è rimasto un buco lì in mezzo perché voglio dire una squadra come la nostra Su questi tre ragazzi punta moltissimo Tarricone, Cascela e Jovino sono fondamentali Diciamo che è il motore proprio della squadra Così è andata e niente, vuol dire ci rimbocchiamo le maniche Eravamo primi, siamo sempre primi a due punti Eravamo fino a giovedì scorso, avevamo ancora due punti di vantaggio Se voglio dire adesso ci mettiamo un pochino in gesto con le forze Cerchiamo di recuperare almeno Tarricone Vediamo perché comunque penso che Jovino e Cascela si sono fatti male seriamente Perché Cascela è andato pure oggi in ospedale con il 118 con la tombolanza Penso che sia una cosa anche seria a lui Recuperiamo Tarricone, recuperiamo un pochino le energie E domenica andiamo a giocare a Foggia su un campo anche abbastanza difficile Perché adesso le squadre, se anche quelle che vogliono vincere il camminato E quelle che si andiamo salvati hanno l'anima Vediamo che succede, andiamo avanti Le ha provate in tutti i modi, oggi ha cambiato anche modulo in corsa Ha inserito il terzo attaccante Forse è mancato un po' della giusta cattiveria sotto porte e non solo Ha dovuto una fortuna anche perché comunque se a Misino il tiro è andato fuori di pochissimo Tarantino ha fatto un tiro a girare che è andato fuori di pochissimo all'incrocio Abbiamo giocato, la squadra ha giocato Però si vedeva che non c'era la brillandezza degli altri giorni La qualità, la forza fisica Peccato un po' sulla fascia Tucci, Michele Tucci non spingeva tanto Niente, possiamo parlare fino a domani mattina Abbiamo perso 2-1 E dobbiamo dare atto che comunque il Castelluccio di Sarri È una squadra che è venuta qua e ha giocato a pallone E hanno vinto loro E dobbiamo dare merito anche a chi vince Perché non vuol dire che quando perdiamo Noi siamo noi il problema Bisogna dare anche merito agli avversari che sono venuti a giocare a Cerignola Hanno fatto una partita gagliarda e sono riusciti poi a portare a casa il risultato Con questa sconfitta come cambia il vostro campionato? Non cambia, primi eravamo e primi siamo Ripeto, cambia un po' per quanto congenere le forze in campo Perché vediamo Cascella che si è fatto Io a Vino comunque è infortunato Recuperiamo Tarricone Andiamo avanti Voglio dire, primi eravamo e primi siamo Adesso non facciamo funerali Abbiamo perso una partita Sono quasi due anni che non perdiamo in casa Ricordiamoci che da quando è nata questa squadra In casa non l'abbiamo mai perso È una squadra che comunque l'anno scorso faceva terza categoria È una neopromossa Non vogliamo adesso prenderci addosso Fino a due anni fa non esisteva niente Oggi pomeriggio durante la partita Ho guardato il mio presidente e ho detto Vedi quanta gente già in tribuna C'è una squadra che è nata dal niente Abbiamo portato tantissima gente oggi qui allo stadio Avremmo preferito festeggiare con una vittoria Vuol dire che ci rimboncheremo le maniche Per festeggiare sperando l'ultima di campionato Con la vittoria appunto del campionato Come ha già ricordato lì Si aspettava una risposta così numerosa da parte del pubblico Sì mi aspettavo perché Vuol dire quando lavori bene Quando hai in squadra tutti i ragazzi di Cerignola Quando fai il risultato Cerignola è innamorato del calcio Mi aspettavo che venissero a vederci Mi dispiace diciamo avergli dato una piccola sofferenza Non avendo vinto la partita Però ci impegneremo tutti quanti Per far sì che torniamo da capo sul binario giusto E vediamo di riuscire a portare in porto questo campionato Per chiudere domenica avete l'occasione di rialzarvi Di continuare il trend di vittorie In testa classifica contro l'atletico Carapelle Che è in piena corsa salvezza Non sarà facile perché è un campo di terra Un campo piccolino Ripeto l'ho detto già due o tre volte Vediamo adesso di l'infermeria come stiamo Perché abbiamo persone infortunate seriamente Ci rimbocchiamo le maniche A questa partita ormai a fine del libro Cambiamo la pagina Andiamo avanti con lo sguardo al futuro Ok grazie mister in bocca al lupo Crepi Andiamo con mister Borrelli Mister una vittoria importante Meno due campionatori aperto Beh sì hai detto perfettamente Una vittoria importantissima Soprattutto per il morale della squadra Ed è una vittoria che ci ha dato la possibilità Di riaprire il campionato Venivate dal pareggio interno contro il Biccaro Oggi eravate ancora la miglior difesa del torneo Con sui 13 gol Oggi l'avete dimostrato Avete dimostrato anche il gran cinismo Due occasioni nitide da gol Due gol Sì è una squadra molto pratica la nostra Purtroppo Molte volte in casa non riusciamo ad esprimere il potenziale Il limite che abbiamo Un limite mentale Quando ci prepariamo a determinate partite È difficile che le sbagliamo come questa Come quella dell'andata Come quella con lo Spinazzola Poi purtroppo veniamo un po' meno Sotto l'aspetto mentale Proprio di concentrazione Quando facciamo delle partite in casa Sulla carta che ci vedono favoriti E lì mostriamo dei limiti Ripeto mentali Per quanto riguarda la partita di oggi Hai detto bene È una partita che abbiamo cercato di controllare Sapevamo di avere di fronte un avversario Veramente degno Perché alla fine non stai tante giornate Al primo posto Se non sei veramente un avversario Con le puntini puntini E questo insomma è anche merito di Michele Di Sandro Hanno messo su una squadra degna Una squadra che merita veramente la posizione che ha Lo dico con tutta la mia onestà Mister nell'economia del campionato Quanto pesano quei passi falsi Quei tanti pareggi Soprattutto Casalinghi Non ultimo l'ultimo con il Biccari Guarda la classifica è lì che parla Siamo a due punti dallo Sportmania E abbiamo fatto quattro pareggi in casa Dei pareggi in cui eravamo addirittura in vantaggio anche 2-0 Quindi questo è la dice lunga sul peso appunto dei pareggi che abbiamo fatto in casa Dopo l'ultima di campionato contro il Biccari c'è stata un po' di critiche Soprattutto da parte della società del Biccari Dicevano di aver ricevuto violenze, insulti Un favore arbitrale a vostro favore Eccoli come rispondo a queste critiche Io innanzitutto non rispondo Perché non mi abbasso a queste cose Dico che ci sono dei comunicati Che vanno rispettati Ci sono delle cose che parlano chiaro Di sicuro non è il Sauri che ha preso 500 euro di multa Per esempio Di sicuro non è il Sauri che puntualmente ha degli giocatori squalificati E di sicuro c'è Che comunque è meglio evitare queste cose Anche perché Avete visto anche oggi Il mio comportamento che è stato quello per tutto il campionato In casa e fuori Quando poi mi sento dire che io in primis Sono contro il Biccari Ho fomentato timore verso l'arbitro Con addirittura comportamenti violenti Cioè veramente mi cascano le braccia E a volte ti viene anche voglia di mandare all'aria tutto Perché sono cose insopportabili da subire Per chi veramente ha dignità E mette sempre pace ovunque In casa e fuori Come il sottoscritto Però mi rendo conto che Purtroppo i social network sono Diciamo la rovina in questo senso Come poi sono la beatitudine Dall'altra parte Ognuno pensa quello che vuole Per quanto riguarda me Insomma Non voglio nemmeno Star lì a dire la mia su Biccari A me basta e avanza L'accoglienza che abbiamo avuto oggi Che è stata veramente da signori Dopotutto non avevo nessuna difficoltà Perché sia con il presidente Mocce Che con Michele Abbiamo un rapporto Non d'amicizia Ma di più che dura da decenni Posso dire E quindi non avevo nessun dubbio Sull'accoglienza Che avremmo trovato oggi Cosa cambia E che peso ha questa vittoria Per il vostro campionato E per le ultime otto giornate Ma cambia semplicemente Che era riaperto il campionato Punto Sportmania è sempre primo Per come la vedo io È anche favorito Perché comunque Due punti di vantaggio Sono sempre importanti A noi dà solamente Un po' di morale in più E dovrebbe farci capire Questo successo Che se si gioca concentrati A calcio Si ottengono grandi risultati Per chiudere Nella prossima incontra In casa Il fanalino di coda La Virtus Sandria L'obiettivo Continuare a vincere Per continuare a rincorrere L'obiettivo è sempre Quello di vincere In casa Fuori tutte le partite Però Le partite Se non le approcci bene Fai una brutta fine Abbiamo giocato Contro la penultima All'epoca La Carapellese In casa Abbiamo fatto 0-0 Il calcio è così Se non giochi Veramente concentrato Se non la prepari In maniera degna Una partita Diventa dura Puoi vincerla La puoi anche vincere Ma Magari Esce l'invenzione del singolo Ma di sicuro Di squadra non la vinci Se non la prepari bene Grazie Mister Complimenti Siamo con Il presidente Dello Sportmania Sandro Moccia Presidente È arrivata una sconfitta Nel match clou Del campionato Ecco come cambia Questa sconfitta Il vostro campionato Cambia che ci sono Soltanto due punti Di stacco dalla seconda E quindi ovviamente Questo ci fa A stare più concentrati Per il proseguo Certo Otto punti Se avessimo vinto Sarebbe stato Un grosso vantaggio Però Grande merito Alla squadra di Borrelli Per essere venuta qui E aver giocato In maniera Così Fluida E concentrata Questo match Noi abbiamo Avuto tre infortuni A centrocampo Ma questo Non è un attenuante Però bisogna Ternere presente Abbiamo fatto Un recupero Che secondo me Non andava fatto Prima di questo Incontro Purtroppo La federazione Ha designato Questa partita Di giovedì A Troia E lì Abbiamo lasciato Tre uomini Infortunati Che oggi Sicuramente A centrocampo Avrebbero dato Il loro contributo Perché ritengo Che la partita Vinta da Borrelli È stata Sul centrocampo Lì È stato Superiore E quindi È riuscito Poi A gestire bene Questa partita Meno due Campionatori aperto Cos'è mancato Secondo lì Per portare a casa Il risultato Oggi Il centrocampo Solo quello È mancato Perché poi dopo I ragazzi Hanno risposto bene Sono convinto Di una cosa Che entrambe Le squadre Faranno L'anno prossimo Disputeranno Il campionato Di prima categoria Questo Ne sono convintissimo Adesso Ci mancano Ancora otto partite Cercheremo Di gestire meglio Questi due punti E riuscire A vincere Questo campionato Il Sauri Oggi ha dimostrato Tanto cinismo Due occasioni nitide A gol Due gol Forse per lo sportmanico È mancato un po' Di cattiveria sotto porta Sì abbiamo avuto Anche noi Delle occasioni Che potevamo Meglio Potevamo realizzare Però non ci siamo riusciti Potevamo sfruttarle meglio Ecco Loro hanno avuto Un calcio di punizione E hanno fatto gol Ben tirato Ha calciato molto bene E poi c'è stato Quel gol A contropiede Il secondo Che poi non ha Voglio dire Il secondo gol Fatto allo scadere Non ha influito Più di tanto Perché Il mister Ha tolto Un difensore Per inserire Un altro attaccante Per cercare Di pareggiare La partita Quindi Perdere 1-0 2-0 Non è Quella La differenza Onore a Ci brucia Del gioco Rialziamo Non ha influito Rialziamo Grazie.